Dove ci troviamo? Cosa stiamo facendo? Siamo qui a Gubbio a provare un bel pranzetto a base di pesce. Sai che dicono che è buono qua il pesce a Gubbio? Il mio amico mi ha detto provalo, è spaziale, fa volare. Perché siamo a Gubbio? Ebbene, tu che hai mangiato il pesce a Gubbio? Com'è? Ti libera, ti smuota. Però mi hanno detto che il pesce a Gubbio è, diciamo, te lo mangi e senti quel tremore nella pancia che si viene sempre da voglia di andare in bagno. E da lì si capisce che è un pesce fresco che ti fa a digerire bene. O no? Non lo so, io ho cagato, non l'ho mutato. Ma l'hai fatto a Gubbio oppure c'è dopo il pesce? Vediamo se sono correlate le cose. No commento. Secondo me è correlato. Davide, tu? Tu che abiti a Gubbio? Recensione di ristorante. Ma la metro sta lì. Ah, la metro sta lì, ma che cazzo? Mi sto pregando. Lo cazzi! Ma porco Dio! La metro sta lì. La metro sta lì. Ah, come la metro sta lì? No, sta lì, che sta lì cazzo. È in Medimmerda. È in Medimmerda. Marocco. Che ingresso è questo? È in Medimmerda. È in Medimmerda. Eh, va bene, non sono collegato. Non sono collegato, ma che cacchino! Aaaaaah! Ah, bravo, accendi sto stretto. Aaaaaah! E' Iangia? Aaaaaah! Aaaaaah! Grazie a tutti.